Tiziana Martello e anche io resto a casa, come vedete in pigiama, senza trucco, questo è virtuale chiaramente e certo io ho un buon motivo per restare a casa perché ho una piccola peste qui che mi intrattiene ma credetemi che mi piacerebbe uscire con le amiche e vedere persone, non si può, quindi videochiamo tutto il giorno ecco, questa è una cosa che potete fare, videochiamare le persone che non potete vedere ho videochiamato anche mio nonno di 97 anni, ecco, per cui se ognuno di noi fa questo piccolo gesto di rimanere a casa e uscire solo se necessario, credo che riusciremo a superare questo momento terribile fatelo per voi, fatelo per gli anziani, per le persone che hanno problemi, per i bambini, ecco è quella una grande responsabilità e quindi restate a casa per favore, ciao!